Vogliamo iniziare seriamente? Vai, io ci sono Penso ci sei Non ce la faremo mai Inizio io Devo iniziare io? Vabbè, ho capito Vai Stai capendo, tranquillo Io penso che è una cosa dal vivo Insieme non si potrà mai fare Nella vita non si potrà mai fare No, no, è troppo complicato Dio, po' Dio, non ho detto Cristo del numero Della via Salve a tutti dal Ghost Hunters Team Sono ormai due anni Che ci scassate la fredda Per sto cazzo di raduno Ebbene, siamo qui oggi per informarvi Che non faremo mai nessun raduno E tutti i soldi delle vostre donazioni Ce li siamo spesi Altro c***o, grazie Fai taglia Co, che incolla, che che cazzo io Allora Salve a tutti dal Ghost Hunters Team Sono passati ormai due anni Da quando nacque in noi L'idea di organizzare un raduno ufficiale Dei Nani con l'Ascia Ebbene, dopo due anni E una pandemia Eccoci finalmente qui A svelarvi la fatidica data Del nostro raduno Mi chiedo ancora Quando vi mostrerete Ufficialmente a tutti Il sette È vera la data della vostra manifestazione sul pianeta Che vi mostrerete a tutti Sette O venti È vera la data della vostra manifestazione sul pianeta È il sette O il vent Miam miam Che cos'è il vent Il miam Non ce la farò mai Madonna budina Che strazio Domenica 27 novembre 2022 E vi raccomando Non prendete altri impegni per quella data Perché sarà un evento esclusivo Con un programma Altrettanto esclusivo Per persone super super esclusive Quindi Vi aspettiamo E a che ora? Semplice Quando volete voi Il prezzo del biglietto d'ingresso È solo di 47 euro Ora tu ti vuoi perdere per un simbolo E non vuoi partecipare? Eh già Perché l'evento sarà diviso in due momenti della giornata Si comincia alle 10.30 del mattino Con l'apertura delle danze Presso il co-working di via Cesare Boldrini 18 Cos'è che ho scritto? Aspettate È coperto Ok A pochissimi metri dalla stazione centrale Del capoluogo migliano Terminerà alle 13 Per una pausa pranzo Velocissima Per poi ricominciare alle 15 Non temete per eventuali ritardi Potrete unirvi a noi Quando lo preferite Sia al mattino Ma fa culo box Che al pomeriggio Ma fa culo box Anche loro hanno d'ingegneri Eh sì Ma sono in ass Sì sono in ass Due e tre minuti di Firenze Perché qui c'è l'arte Veramente Sì 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 Che è? Concentratemi sul letto Cos'è successo? Buona roba Gli hanno tirato un bacio da notte a presto Anche perché scusate Nel video non si vede una telecamera Non si vede niente C'è già il cameraman Perché quindi sono già in tre Loro due più il cameraman E l'ingegnere in tutto sto tempo Che dove è andato? Cioè È sparito La domanda è quella È quell'ingegnere vestito Da operario Da meccanico Che cosa fa? E poi una cosa Non meno importante Vaffanculo box Vaffanculo Se vede l'ingresso Sarà ovviamente libero E gratuito I posti Per le esigenze organizzative Saranno numerati E controllati Quindi come fare Per prenotare Il proprio ingresso E poi Di eventuali accompagnatori Semplice Ti basterà cliccare Il link Che troverai In descrizione Di questo video E compilare Il relativo Forme di adesione Grazie Dove? Balucandosi? Cosa vuol dire? Sesterzi? Che sterzi? Ma non lo so A lui lo pagano In se sterzi? Fa così Così Ma perché? Perché fa così? Ma perché? Ma perché? Ma Eh? Grazie Perché? Perché? Non tutti Ma si sta riferendo Al K2 La sua soddisfazione Nel nostro Il nostro Il nostro Piglior Premio Ehi Ehi Cos'è? Cos'è? Hai smargato a mordo E' una cosa molto importante E quindi popolo Ora che avete a disposizione Tutti i dettagli organizzativi Non vi resta altro da fare Che prenotare il vostro posto Per quello che sarà L'evento esclusivo Nanico Più infame Degli ultimi 13 anni Di Ghost Hunter Team Mi raccomando Fate i bravi E noi Come sempre Ci vediamo Al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti E quello è fermissimo Cos'è? Ma che è successo? Cos'è fatto? Senti l'audio Non Non siamo ancora in live davvero veramente fatemi controllare se siamo in live hai capito per quale motivo non potremo mai più fare un cazzo di persona